direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super analotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super analotto oggi martedì 20 aprile jackpot ha raggiunto la cifra di 139 milioni 943 mila 907 euro il più alto d'europa le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via l'estrazione del concorso numero 47 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire se i numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero primo numero estratto è il numero uno siamo al secondo numero con super analotto si inizia già a vincere secondo numero estratto è il numero 75 terzo numero sta arrivando terzo numero estratto è il numero 32 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 68 adesso scopriamo il quinto numero capro le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 48 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 58 dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme ai cinque numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 59 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 1 75 32 68 48 58 il numero jolly è il numero 59 e ora passiamo al numero superstar 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 è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltipica le vincite super analotto fino a 100 volte premi anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? il numero superstar di questa sera è il numero 10 ricontrolliamo tutti i numeri strati del concorso numero 47 in ordine crescente 1 32 48 58 68 75 numero jolly 59 superstar 10 l'estrazione di oggi martedì 20 aprile termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate ci vediamo fra poco per scoprire se il jackpot di oltre 139 milioni 900 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 47 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del super analotto assegna 443 mila 377 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 139 milioni 900 mila euro il più alto d'europa sarà stato centrato il 6 questa sera il 6 di super analotto non è stato realizzato il jackpot cresce ancora per arrivare a 141 milioni 300 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 nessun 5 più 1 i 5 sono 7 vincono 29 mila 302 euro ciascuno i 4 sono 465 e vincono 448 euro ciascuno i 3 sono 19 mila 523 e vincono 32 euro ciascuno i 2 sono 325 mila 325 e vincono 6 euro ciascuno e in questo concorso sono state assegnate ben 14 mila 789 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 4 e vincono 44 mila 833 euro ciascuno i 3 stella sono 216 e vincono 3 mila 219 euro ciascuno 100 euro vanno i 3.447 due stella 10 euro e 27.551 stella e 5 euro è 66 mila 840 zero stella vi ringrazio per essere stati con noi superanalotto vi dà appuntamento a giovedì 22 aprile e giocheremo per un jackpot di 141 milioni 300 mila euro arrivederci ciao 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 ciao